Ciao a tutte e tutti e tutte, io sono Alice Marlo e sono un'attivista per il diritto all'aborto. La mia esperienza parte da un'esperienza personale di aborto, infatti nel settembre del 2020 ho felicemente abortito con la terapia farmacologica, quindi con la RU486, la pillola abortiva contro cui i fratelli d'Italia, ancora prima di vincere le elezioni, si era già ampiamente scagliata in molte regioni e comuni d'Italia. Dopo il 26 settembre ci siamo svegliate in un'Italia neofascista e con il diritto all'autodeterminazione dei corpi estremamente sotto attacco. Tre giorni prima della vittoria il partito di Giorgia Meloni aveva firmato il documento presentato da Provita e Famiglia, la più grande e più ben finanziata associazione antiscialta italiana, che chiede espressamente una ritrattazione del diritto all'aborto, oltre a tutta una serie di clausole al ribasso sui diritti civili. E tre giorni dopo, forse neanche la vittoria di Meloni, in consiglio regionale in Liguria, Fratelli d'Italia si è astenuto rispetto a un ordine del giorno molto blando, presentato dal Partito Democratico e votato anche dalla destra, in cui si chiedeva la piena applicazione della 194, una cosa che la Meloni stessa ha ripetuto più volte in campagna elettorale. In regione Liguria la situazione è tutt'altro che erosia, infatti ad aprile del 2021, sempre Fratelli d'Italia, seguendo l'ondata di comuni come Pescara e di regioni come il Piemonte, ha presentato una proposta di legge, norme per la tutela della salute della donna e del nascituro, perché scrivere sul tuo corpo decido io assassina faceva un po' troppo brutto. In questa PDL è espressamente scritto che verrà reso obbligatorio, se approvata, o meglio, quando approvata, la presenza di presidi antiabortisti delle maggiori associazioni antiscelta italiane in tutti i consultori pubblici e in tutti gli ospedali che praticano l'IVG. Ora, a fronte di questo panorama devastante e che potrebbe davvero mettere a rischio l'accessibilità, più di quanto non sia già adesso, del diritto all'aborto nella nostra regione, è uscito un posto estremamente preoccupante di quello che dovrebbe essere il leader dell'opposizione progressista in regione Liguria, Ferrucce Sansa. Sansa, il giorno in cui in tutta Italia le persone scendevano in piazza per manifestare la propria solidarietà al popolo iraniano, in particolare alle donne, ha pensato bene di scrivere un posto sull'aborto. Non si sa se per noia o perché in realtà davvero antiabortista, ma l'ha scritto molto male. Anzitutto non è vero, quello che ha detto il consigliere Sansa, che nessuno parla della problematica dei consultori italiani che sono stati smantellati. Ne parliamo da anni, scendendo anche più volte in piazza e chiedendo sempre a chi ci rappresenta o dovrebbe rappresentarci in regione di parlarne, di chiedere ulteriori finanziamenti, oltre che a una rassicurazione sulla laicità dei presidi sanitari pubblici. È anche non vero che non viene richiesto un'educazione alla sessualità o una contraccezione gratuita, perché lo richiediamo da decenni. Ci sono abbandonate in Parlamento numerose proposte di legge presentate dall'area progressista o di sinistra, addirittura del PD. E quindi, come dire, ben svegliato. È da anni che facciamo queste battaglie. Ma la parte più preoccupante che ci lascia sinceramente allivite e molto arrabbiate è quella in cui il consigliere Sansa parla dell'aborto come di una pratica che può essere concessa e che a volte è necessaria. Ecco, no. Volevo ricordarle che l'aborto è un diritto. Non è una paternalistica concessione, non è per tutte un trauma, come invece lei scrive, o un'esperienza dolorosa e soprattutto dovreste battervi per renderlo realmente accessibile, invece che continuare a ostacolarci raccontando addirittura che è l'interruzione di una vita che sta per nascere, come probabilmente avrebbe scritto pillone. Questo non solo è vergognoso, anaclonistico, ma è inaccettabile da chi si dichiara progressista. Una persona che ricopre un ruolo di potere e si dichiara facente parte dell'area progressista non può essere anti-abortista. Se quello voleva essere un coming out delle sue intenzioni di voto, sappia che non siamo contenti della sua rappresentanza in Consiglio regionale. E speriamo in sue sincere scuse e in una sua futura formazione sul tema, in modo tale che certe castronerie e affermazioni vergognose non si ripetano mai più. Due ultime puntualizzazioni. Anzitutto, non è vero che di aborto devono parlare necessariamente solo le donne, sarebbe bello che a parlarne però fossero solo persone che hanno consapevolezza di quello che è il diritto all'aborto e che siano fondamentalmente transfeministe. E qui arriva la seconda puntualizzazione. Consigliere Sansa e persone all'ascolto, l'aborto non è un diritto solo delle donne. First reaction shock, ma siamo nel 2022 e vi assicuro che abortiscono con molta più violenza medica e con un sistema sanitario che non è preparato ad accoglierle anche le persone trans e non binary e sarebbe bene cominciare a includerle nella narrazione. Grazie a tutti.